E' la quarta vittoria di fila della Correggensi che rispetto alle altre ha ben tre gare da recuperare. Nel caso di tre vittorie sarebbe leader in discussa del torneo. Contro la Marinianese Cattolica a 1923 arriva una vittoria divisa in due parti. Gli ospiti mettono in difficoltà i locali nel primo tempo rischiando già dopo 60 secondi di gioco di passare con Nendaie. Sotto riva risponde distinto neutralizzando la conclusione del centrocampista giallorosso. La risposta è affidata a Carrasco. Bravo in fase di protezione della sfera. Tocco per la corrente Villanova che chiama Piai a una strepitosa parata. Davvero bravo il numero uno cattolichino ma dall'angolo la Correggensi non perdona. Sotto misura nell'area piccola nasce una confusione che viene risolta forse di testa da Benedetti. L'ex difensore in Serie C di Sant'Arcangelo non perdona per lo 0-1 dei padroni di casa. La reazione della Marinianese Cattolica a 1923 arriva con uno sfondamento sulla sinistra che porta a un traversone e dopo un batti e ribatti, le immagini in questo caso non ci aiutano, arriva una conclusione alla distanza che si perde alta. Gli ospiti insistono e con azione fotocopia arrivano questa volta alla conclusione in aria ad opera di La Rosa. Bravo nell'anticipo di testa ma poco fortunato nell'inquadrare il bersaglio. Ma prova e riprova da una punizione di La Rosa arriva alla sponda di testa di Gaiola, ribattuta dalla difesa della Correggese sulla testa di Endai e il centrocampista appoggia per Izzitelli che solo soletto infila sotto riva per il pareggio meritato ad opera dei giallorossi. Carrasca, Landi e Loco dall'altra parte fanno le prove del gol con questa azione insistita che si perde al lato. Ma all'ultimo secondo del recupero del primo tempo da questa punizione nasce i colpi di testa di Landi che Piae ribatte sui piedi di Locco che ben appostato non perdona portando nuovamente in vantaggio la Correggese. Squadra riposo sul 2-1. Nella ripresa la Correggese cerca da subito il Tris. La marignanese cattolica è troppo attendista, rimane a guardare in questa fase quando la combinazione Locco-Vilanova porta al tiro finale quest'ultimo che si perde sul fondo. Piae non perfetto nel rinvio regala questo pallone a Villanova che per fortuna sua calza malamente. E' la volta del Tris, azione impostata da Roma, tocco per Locco che a sua volta favorisce l'inserimento in volata di Landi. Destro secco e nulla da fare per Piae, siamo sul 3-1 dei padroni di casa. Landi questa volta crea, appoggia per il neoentato Damiano che protegge ottimamente il pallone ma calcia debolmente tra i guantoni dell'estremo ospite. La marignanese cattolica risponde con mannuzzi ma la conclusione del numero 4 non è delle migliori. Apprezzabile invece l'iniziativa sulla sinistra di Rizzitelli ma l'attaccante non trova compagni a ricevere un pallone delizioso che chiedeva di essere scaraventato in fondo al sacco. E sull'ennesima ripartenza la correggesse e non perdona. Bravo e fortunato Saporiti a vincere i contrasti in area di rigore e a infilare per la quarta volta l'incolpevole Piae. 4-1 è fine dei giochi, forse anche se la marignanese cattolica rimane in partita fino all'ultimo. Prima i giallorossi protestano per questo fallo da dietro commesso su Merlonghi che al momento del tiro viene stoppato così. Infine è l'ex recanatese Nodari a dimezzare le distanze con questo colpo di testa che beffa sotto riva. Siamo sul 4-2. Nel finale ancora proteste ospiti che vorrebbero un penalty per questo fallo di mano commesso in area di rigore. Ma non c'è più tempo, la correggesse si impone per 4 reti a 2. è il momento di farbare le distanze. Grazie a tutti.